Piano, grigio! Ragazzi, è troppo a questo libro che non c'è... Come? Cagnolino bellissimo! Ma non è vero per rimbalzare un sassolino d'acqua? Ma si calca, è forte e forte! Dopo ti abbassai! Leo, lanciamolo sassolino! Porca, cosa lo dai loro? No, in questo è perché... Sì, la strada al regno è veramente forte! C'è un formaggio, un po' di qua i fili! Per te senti, all'automiglia! Anche lo si vedi. Guardi il nostro nostro canale! Guardi il nostro canale! Grazie.